L'Anni Materassi, presidente della Casa e Popolo di Grassina, che sta preparando il lancio in grande stile della nuova stagione auturno-inverno. Sì, stiamo preparando tutto il consiglio e con un aiuto anche molto forte da parte dei volontari. Noi ci crediamo molto in questi due giorni, in questo Open Day e tendenzialmente il venerdì sarà più sulle attività sportive, quindi ci sarà il rugby e il maitai, mentre il sabato, che è un'altra giornata a cui fermiamo molto, ci saranno tutte quelle attività che vanno dal coro al lancio della nuova scuola di musica, al ballo, tutte le attività che si faranno all'interno. Per noi questo è un inizio, speriamo, per riempire la Casa del Popolo di attività, di proposte, anche culturalmente soddisfacenti per i bisogni del territorio. Non solo, noi ci auguriamo di riuscire a attirare quanto più persone possibile della nostra comunità, quindi si parla di Grassina e del comune di Bagnaripoli, ma abbiamo anche un occhio alla comunità più allargata. Noi abbiamo una sala con certi molto grande, quindi l'idea è quella di rilanciare anche le attività della Casa del Popolo, non solo per il territorio, ma anche per una porzione più ampia, geograficamente parlando. Noi siamo qui, siamo a disposizione e sentiamo le proposte che possono venire da altri e da persone che vogliono o darci una mano oppure proporre delle attività compatibili con i valori della Casa del Popolo. Quindi ci rivolgiamo sia a singoli cittadini che a associazioni, ma anche, non lo dobbiamo nascondere, all'amministrazione locale perché noi crediamo anche in base a quello che ha scritto il sindaco nel programma, quindi tutta la parte legata alla cultura, al rilancio delle attività, quali possono essere i concerti, eccetera, eccetera. C'è una struttura da ritirare su, però c'è una struttura a disposizione e nulla. Noi siamo qui e ascoltiamo le proposte che vengono da questo territorio. Quindi il 6 e 7 venerdì e sabato non è solo un'esposizione di programma, ma anche una possibilità di raccogliere proposte per qualcosa di nuovo da fare alla Casa del Popolo. Certo, noi proponiamo queste cose, però se qualcuno vuol venire a proporre, oppure può essere un pretesto per prendere i primi contatti per persone che vogliono proporre qualcosa all'interno dei nostri spazi.